fine della strada non si passa più purtroppo questa neve non se ne va siamo arrivati in un bel punto sopra mamma rosa di fronte a noi il gran sasso e qui adesso proviamo ancora magari facciamo questi 50 metri mezzo la nera e poi forse forse non so vabbè prossimo prossimo